guardate qua che bellezza ragazzi veramente una femmina spettacolare ovviamente questo con il mio parere che andrà al nostro amico matt qui belletto che matt ecco qua ragazzi questa è una femmine che veramente ci tengo tanto perché ha fatto dei soggetti bellissimi e un amico mi ha chiesto se potevo aiutarlo e gli ho fatto piacere eccola qua qui Grazie a tutti. Grazie a tutti.